Ischia Messina, sedicesima giornata di campionato, queste le formazioni Ischia, Giordano, Finizio di Agostini, Impagliazzo, Sirignano, Empereor, Fiandaca, Bulevardi, Gerevini, Ciotola e D'Amico In panchina Mennella, Di Cesare, Trofa, Iannascoli, Schetter, Armeno, Ingretolli, allenatore Maurizzi Messina, Giuliano, Benvenga, Donnarumma, Bucolo, Altobello, Stefani, Pepe, Damonte, Orlando, Izzillo, Bonanno In panchina Lagomarsini, Cane, De Bode, Silvestri, Gaeta, Bielanovic, Corona, allenatore Grassadonia Arbitre il signor Rossi di Rovigo e facciamo scorrere le immagini della gara Vediamo le squadre che scendono in campo, sono le 11, orario di colazione al Mazzella Per fortuna c'è il sole, dopo una settimana di piogge l'Ischia ha bisogno di vincere Il Messina non può perdere partita tra due squadre con obiettivi che devono essere raggiunti Subito Ciotola in avanti, un bel tiro, bella la paralta di Giuliano Per Ciotola è subita una buona giornata, lo si vede dal gol che mette a segno al 22esimo E' certamente il giocatore più in forma dell'Ischia, lo dimostra con giocate importanti Questo è veramente bella, trova lo spazio, se lo guadagna, tira sul primo palo e segna Battuto Giuliano, i tifosi giallo-blu esultano Ancora Ischia in avanti e Ciotola per un soffio, non riesce a ribadire in rete Ancora Ciotola sulla fascia, mette dietro, palla dentro per Di Agostini che salta benissimo Ma il suo pallone termina a lato Poi è il Messina che si fa avanti, da Monte, tiro svirgolato da buona posizione Sempre da Monte, tira però viene rimpallato in calcio d'angolo Ma il calcio d'angolo è quello fatale, Izzillo di testa e poi Altobello Mette in rete per l'1-1 del Messina Messina che in 4 minuti ha fatto un bel forcing e ha trovato il pareggio proprio con Altobello Che vediamo esultare, circa 60 tifosi del Messina Al Mazzella, poi il tiro che va al lato dopo il buon intervento di Giordano Ancora il Messina avanti, ripresa, Ischia con Ciotola, tiro cross che sfiora il secondo palo Sempre Ciotola, libera il sinistro, non nel suo piede, il pallone termina a lato Però una buona giocata del numero 10, tiro dalla distanza Sirignano a lato E poi una rovesciata in aria da Monte all'opportunità per battere Ma il suo tiro termina alto, sempre da Monte di testa per Bielanovic Appena entrato, il 2-1 del Messina Il centravanti con trascorsi importanti anche in Serie A Mette dentro, appena entrato, subito dà una soddisfazione a Mr. Grassadonia E va a esultare nei pressi della gradinata giallorossa Rivediamo il gol, bravo Bielanovic Grazie anche alla sua grande struttura Poi c'è Gerevini In aria Avrebbe potuto tirare Viene sgambettato da Bonanno Numero 11 Un attaccante in difesa Non è certamente molto esperto Ciotola dal dischetto Spiazza il portiere Doppietta per il numero 10 dell'Ischia Autore di una prestazione certamente eccezionale Rivediamo il gol battuto in modo impeccabile Poi una deviazione di Giuliano Ischia che cerca di essere pericolosa Lo è con De Agostini Una delle punte più pericolose dell'Ischia Poi Pepe, bravo Giordano col piede a deviare sul cross Ischia ancora avanti E sempre De Agostini In scivolata che non trova la porta Dall'altra parte Corona Appena entrato in girata Mette a lato Poteva dare il 3 a 2 al Messina Proprio allo scadere Ma la partita finisce qui Con il risultato di 2 a 2 Amarezza per entrambe le formazioni Proprio allo scadere